Si è concluso con due assoluzioni disposte con la formula più ampia del fatto non sussiste il processo a carico dei due dirigenti della Ruzzoreti, finiti a processo con una citazione diretta a giudizio accusati di reati ambientali nella conduzione del potabilizzatore di Montori Alvomano. L'inchiesta risale al 2019 scattò dopo un esposto presentato dall'allora deputato del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini, sul funzionamento del potabilizzatore. Sulla sentenza grande soddisfazione è stata espressa dai vertici della società acquedottisti. La giustizia ha fatto il suo corso e ha esonerato la Ruzzoreti da qualsiasi responsabilità per gli accadimenti, quindi c'è grande soddisfazione per l'esito della sentenza. Una struttura quella del potabilizzatore di Montorio su cui è nato il progetto di ampliamento per la interconnessione dei sistemi idrici regionali. Sì, siamo già nella fase progettuale, sono 55 milioni di euro di finanziamento per il potabilizzatore di Montorio Alvomano. È un impianto di grande importanza, soprattutto perché è unico in Abruzzo, unico in centro Italia. Andrà a soddisfare le esigenze, ma soprattutto le carenze idriche, non solo della provincia di Teramo, ma anche di tutta la regione Abruzzo, specialmente Pescara che è quella che soffre maggiormente. L'obiettivo primario di questa strategia è quello di soddisfare il fabbisogno idropotabile di una popolazione superiore ai 250 mila abitanti, con un volume di acqua trattata di oltre 63 mila metri cubi al giorno. Diciamo che i prossimi anni, stando all'estima degli esperti, potrebbero essere di grande sofferenza al punto di vista della necessità idrica. Il potabilizzatore di Montorio Alvomano aumenterà la portata fino a 2.100 litri d'acqua al secondo, significa che tutta la regione può guardare con ottimismo i prossimi anni a fronte delle grandi problematiche che potrebbero verificarsi nel nostro territorio. Questo è un impianto, un fioralocchiello della provincia di Teramo, dell'Abruzzo, ma anche di tutto il centro Italia. L'avvio dei lavori è previsto per i prossimi mesi, mentre il cronoprogramma prevede la conclusione dell'Opera nel terzo quadrimestre 2025. La fase di collaudo per l'entrata in esercizio dell'Opera si concluderà entro il primo quadrimestre 2026. Grazie alla grande quantità presente, soprattutto in altura, perché lì viene prelevata acqua dall'invaso di Pieganini, che a sua volta preleva da Campotosto, un'acqua che si trova a 1.300 metri, quindi di grande pregio, di grande qualità, possiamo affermare che siamo fortunati a vivere in questo territorio perché presenta tante risorse che magari tanti altri luoghi non possono vantare.